La nostra storia è iniziata così. Volevo che tutti si sentissero accolti, che non si preoccupassero mai di nulla. Volevo offrire ciò che è vero e buono, calore e sorrisi. Volevo sempre il meglio, ogni giorno un po' di più. I supermercati Ali sono così. Ali migliora la vita. Alla prossima